Controlli a tappeto nei comuni della penisola sorrentina per i carabinieri della locale compagnia. Servizio a largo raggio effettuato sulle spiagge, anche con il fondamentale contributo di personale in borghese, o meglio, in costume. I militari, infatti, con asciugamani e ombrelloni, si sono mimetizzati tra i villeggianti e hanno potuto osservare da vicino i movimenti sospetti. Diversi uomini e le donne impiegati, che con il supporto dei colleghi in divisa, pronti a intervenire attendendo in posizione defilata, hanno garantito il rispetto delle regole comuni in modo discreto. Durante le operazioni è stato denunciato a piede libero un quindicenne napoletano trovato in possesso di un coltello a serramanico. Una decina di ragazzi, poi, sono stati segnalati alla prefettura, che sono stati sorpresi mentre fumavano hashish o marijuana, non curanti del fastidio arrecato ai vicini bagnanti. Al termine del servizio, che verrà ripetuto anche nei prossimi giorni, sono state identificate 135 persone.